... sapere dove abita. Con voi? Sì. E dove, dove? Poco lontano da qui, a pochi passi. Grazie, grazie tanto. Ma a me non piace affatto la vostra faccia. Addio. Grazie. Grazie. Vedete quel volo? È una di quelle buone lane che in Spagna rubavano agli altari della Madonna per scialare con le... E voi che blatterate? Voi di Spagna eravate il capitano della mia compagnia, il signor Antonio Roncaglia. C'è ancora a Ferrara chi partecipò all'impresa. Il capitano Roncaglia. Così non potrai mai dire che non sapevi. Ehi, bella la risposta che avete dato al capitano Roncaglia. Mi è piaciuta, sapete. Così deve replicare un birichino di Ferrara. Oè, uomo di campagna. Però vi prendete troppa confidenza a fermar per la strada uno che neppure vi conosce. Siete fortunato che vi sembrate più ignorante che malizioso. Altrimenti potrei pensare che voi foste una spiglia. La setta dei birichini vive anche in campagna, no? E un birichino di campagna non può chiedere un piacere a uno di città. Non ho mai inteso che il seme dei birichini attecchisca in campagna. Eppure attecchisce. E come? Chiedetelo un po' al Raguseo. Ah, conoscete il Raguseo? Se non ci fossimo noi, birichini di campagna, a preparare il terreno, spianare le strade, eh? E come vivrebbe il contrabbando che vi aiuta a vestirvi così bene, eh? Il contrabbando, la via del sale. Appena ho inteso parlare qualche volta. Io sono qui perché devo parlare al Raguseo di cose che gli premono, ma al solito ingilizzo non l'ho trovato. Nella strada degli armari voi non... Sì, sì, nella strada degli armari. Mi hanno detto... Mi hanno detto che è fuori. Ma magari adesso ci riproverò. Chissà che non lo trovi. Amico, di sera è meglio. Michele Bergando torna alla tana di notte. E' di notte che riceve. Grazie. Te ne consiglio. E ora accettatene uno, mia. Quando camminate, e tirate indietro sto sederone, altrimenti ve lo spianano a calcio e lo sgonfiano come una mongolfiera. Capito, amico? Eh? Capito? Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.